La creazione raccontata ai bambini piccoli e grandi, anche perché segni è anche per grandi, ve lo ricordo, dicevo la creazione raccontata come un atto creativo, quindi che si avvicina alla creatività, al processo di creatività dell'artista. E per questo lo abbiamo programmato all'interno degli spazi di Palazzo Ducale, in Atrio degli Arcieri, che usiamo ormai da tanti anni, e quest'anno la collaborazione con il Ducale è sempre più importante. Il Palazzo sta sviluppando tutti gli aspetti di accoglienza, di progetti artistici dedicati alle nuove generazioni e quindi non potevamo che incontrarci. Per questo abbiamo scelto questo spettacolo e per questo questa mattina a vedere lo spettacolo c'erano anche dei ragazzi delle scuole superiori che adesso scriveranno i loro commenti, criticheranno, e quindi vi invitiamo anche a guardare la nostra pagina Facebook, le immagini e tutti i nostri social e media partner che ci seguono in questo progetto e da domani a venirci a trovare agli spuntini critici alle 19.15 che sono aperti tutti per raccontarci degli spettacoli che avete visto e cosa ne avete pensato. Grazie a tutti. Scusate, è che sono un po' emozionati, anzi, siamo emozionali, perché stavamo aspettando proprio... che c'è? Eh? Sì, adesso comincio, ma parlo io, se parlate tutti insieme non si capisce niente, d'accordo? Non molto tempo fa, ci siamo fatti una piccola domanda, piccola, ma a questa domanda non abbiamo trovato una risposta, anzi, è nata una nuova domanda, e poi è nata un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra ancora, insomma, come tanti gritti, le domande hanno cominciato a rimbalzare e a saldare nelle nostre teste. Erano domande difficili da chi appare, domande suggerite, domande che non sempre avevano una risposta. Che c'è? Eh? No, Edoardo, non puoi andare in manca verso l'altra, però, dai, fai male, su, e ora, vieni a cominciare. Noi abbiamo scelto di raccogliere tutte queste domande, e poi ne abbiamo scelta un'altra, quella che ci sembrava la più bella, la più grande, la più importante, fra tutte le domande, senza risposta.